Hai detto una cosa che è giustissima, nel senso hai rappresentato la realtà, il fatto che magari le persone a casa pensano che i bodybuilder tolto da quella realtà là non sia magari poi una persona che sappia stare in un contesto fuori da quello, no? Ecco, mi ha fatto un po' male sentirlo perché purtroppo magari per le persone comuni a casa per la maggior parte è così, ma in realtà dietro c'è proprio questo, cioè sapere che sei una persona con disciplina, rigore, con un mindset veramente di ferro, Cioè sono delle qualità che tu riesci a trasmetterle, no? Però ecco, le persone a casa dovrebbero valorizzare, cioè il bodybuilder non è solo muscolo Sono d'accordo, ma chi deve dare la possibilità di mostrare queste cose? Noi Sì, esatto Quindi se io limitassi la mia comunicazione alle persone facendo vedere solo quanti muscoli ho, quanto uno in allenamento e non parlassi mai, perché è questo che manca al bodybuilder, la comunicazione Una fase educativa Cioè io posso mettere 500 foto di quando sono sul palco, tiratissimo, enorme, e cosa trasmetto? Che chi è amante dei muscoli dice, è fighissimo, ma chi non ne capisce nulla, chi non ha questa passione, vede, perché quello che vede è questo, un energumeno muscoloso in tanga colorato su un palco È vero, perché poi li spruzzano un pochino Se invece io ti contestualizzo con un di in tanga e ti dico, ma tu sai che per fare quello, io nelle ultime 16 settimane mi sono alzato alle 4 di mattina a andare a fare cardio un'ora Sono tornato a casa, per due ore mi sono preparato tutti i pasti della giornata e sono arrivati alle 7 della mattina Faccio il primo pasto, ho anche un lavoro, quindi mi metto al pc a fare le consulenze, piuttosto che parlo col commercialista, tutte le mie cosine Alle 10 torno in palestra e faccio il secondo allenamento della giornata Mi faccio una doccia, la seconda della giornata, faccio un pasto, mi rimetto a lavorare, se riesco mi stendo un'ora, un'ora e mezza per recuperare, perché devo capire in che parte del pianeta sono E alle 18 ho il terzo allenamento Allora quando tu fai percepire che dietro quello minimo muscoloso con un tanga c'è tutto questo Quello minimo muscoloso con il tanga acquisisce un valore Noi siamo una cultura molto operaia In America, se io riesco in una maniera X, col mio business Y, a comprarmi la Ferrari La prima cosa che io faccio è fare un video di quanto sono figo perché ho preso la Ferrari E in America mi dicono, grande bravo, come hai fatto, cosa hai dovuto fare Se lo facciamo in Italia, chissà cosa ha fatto, ha fatto le fatture false, un bidone Guarda quello dell'anticovinaio, stessa cosa Tutti, tutti, sì Lui l'ha fatto con l'Aurus, no se non mi sbaglio L'hanno riempito di insulti Gliel'ha comprata il babbo Se invece io, prima di farti vedere che ho comprato la Ferrari Ti faccio un vlog della mia giornata lavorativa Ti spiego da dove sono partito, dove sono arrivato Quelli che romperanno le palle ci saranno sempre Ma molti altri diranno, ah no ok Mi ha fatto vedere tutta la fatica che ha dovuto fare per arrivare lì, allora ok Noi siamo un'azione estremamente devota alla fatica Se dimostri di aver fatto fatica, allora ti viene giustificato il fatto che tu hai un achievement Che è l'auto, che è il fisico, che è quello che vuoi La chirurgia estetica, la chirurgia estetica in qualsiasi parte del mondo è sdoganata da quanti anni? Qua c'è ancora gente che rompe le scatole se vede una donna che si fa il botox Ma uno potrà fare quel cavolo che se ne ha volto con la sua faccia Se guardiamo, per ritornare al discorso precedente Io vado a fare la spesa al supermercato Se tu vai a fare la spesa al supermercato in Italia Hai dei commenti, se vai in America a farlo ne hai altri E quindi il discorso anche dicevo Tempistica e luogo Se io vado in America e giro per Walmart In canotta La gente mi fa Hey bro, nice physique, nice body Mi chiede come andate alla gara Sono lì per gareggiare, cosa devo fare? Alcuni pensano che sei un wrestler Altri pensano che sei un strongman Perché magari non hanno proprio l'identificazione di quel fisico col bodybuilder Però riconoscono in quell'anomalia Perché io sono un'anomalia Qualcosa non di brutto Ma di particolare E sono curiosi Devo dire che questa cosa sta avvenendo anche in Italia Però il problema del bodybuilding in Italia Sono i bodybuilder Questa cosa sta cambiando Perché i social stanno portando tantissimo A livello di testimonianza su come un bodybuilder Arriva a quella condizione, a quel fisico E dall'altra parte purtroppo Come ogni volta che uno strumento di comunicazione È di libero accesso per chiunque Ci sono anche delle persone che lo utilizzano Comunque questo te lo dicevo Te lo dicevo anche prima della puntata Secondo me è tanto merito tuo Te ne va dato atto Cioè c'è un pre-presti o un post-presti Grazie mille